pallone e a darla a Petrucci Petrucci da sotto chiama i compagni al movimento serve palla per Siberna difesa aggressiva di Piacenza super canestro di Siberna sotto canestro Faenza tanto ottimo questo pressing di Vico e palla recuperata da Siberna che va a segnare un gran canestro davvero una grande azione di squadra quattro quarto notevoli le difficoltà a contrastare l'intensità di Faenza non premiata dalle conclusioni in quest'ultimo scorcio di gioco adesso è capitana Petrucci che trova la soluzione dai sei metri e settantacinque più di tutti i colori ma finisce nelle mani di Pastore con sei secondi dalla fine e non ci pensa su Pastore Vico scusate Vico va fuori per Petrucci la tripla di Petrucci allo scadere 5-3-4-2 si va fuori per Berra Cecchetti Siberna di ruba palla poi la da avvoltolini super canestro di Faenza da Romando contro Cecchetti prova a sfidarlo scarico per Petrucci bel movimento di Petrucci e bel canestro di Petrucci Bassoni Bandini prova la tripla Bandini Grazie a tutti.